Ciao a tutti, oggi vi spiegherò Pepakura Vever 3, un programma per creare carta modelli da oggetti 3D del computer, è un programma molto semplice che potete trovare tranquillamente su Google facendo la ricerca Pepakura, facendo questa ricerca uno dei primi siti che viene fuori è il sito ufficiale del programma dove troveremo varie informazioni, nella sezione download troviamo il nostro programma, disponibili per il download ci sono vari programmi e noi al momento cerchiamo soltanto appunto il Pepakura Vever 3 che è un solo visualizzatore, invece per creare modelli nuovi si utilizza il designer, per scaricarlo è facile, basta cliccare sul link del Pepakura free e poi c'è direttamente il link per scaricare la versione, i sistemi supportati sono Windows 7, Vista, XP e 2000. Il programma in sé è molto semplice, una volta installato permette di leggere dei file PDO che sono ad esempio queste estensioni qui, queste estensioni PDO sono appunto dei progetti creati prima con il designer, ma guardiamo pure in dettaglio il programma, come potete vedere si apre ed è molto semplice, non ha molti tasti, niente di che, per aprire un nuovo progetto si fa open file, ad esempio si va a prendere un oggetto con l'estensione che abbiamo cercato su internet o che abbiamo creato noi, in questo caso il martello di Tor si fa apri, ecco qua, la visualizzazione è molto semplice, permette di capire qual è l'oggetto, le dimensioni e anche i fogli di lavoro che avremo poi da fare, in struttura bene o male il programma, come ripeto, è facilissimo, perché ha pochissimi tasti, l'unica cosa è capire un pochettino come si vuole stampare l'oggetto che abbiamo in visualizzazione. Partiamo subito con le visuali che abbiamo a disposizione, qua sopra abbiamo appunto i click dei settaggi che uno vuole fare per appunto la visualizzazione o la stampa, poi invece qua sotto, nell'angolino abbiamo la dimensione che avrebbe l'oggetto altezza, larghezza e profondità. Queste dimensioni non si possono cambiare, una volta che avete creato questo PDO e avete soltanto il Vever, potete avere soltanto queste, a meno che non comprate la versione del designer, nel quale poi si possono modificare tranquillamente tutte le dimensioni e anche cambiare poi le dimensioni o comunque sia le posizioni degli oggetti all'interno del foglio. Come si può vedere qua nella visualizzazione centrale abbiamo, ripeto, l'oggetto 3D che serve molto poi per lo sviluppo, per incollare tutti i pezzi e capire dove e come attaccare. E poi abbiamo la parte appunto del Previeve, dell'anteprima, diciamo della stampa che avremo del nostro oggetto. Appunto qua ci aiuta anche molto poi una volta stampato e tagliato tutto ad incolarlo, proprio perché ci dice la certa zona a cosa va incollata. È un aiuto essenziale soprattutto quando si hanno pezzettini piccolini come questi qua che sono veramente micidiali da fare. Allora andiamo a vedere i tasti, meno male quelli principali si vedono un po' tutti. Questo qui ti permette di vedere l'oggetto con un colore. Io non ho mai stampato niente con i colori nativi, anche perché uno si va a stampare un mare di fogli con un colore che a volte non serve, nel senso che poi verrà elaborato per renderlo un po' più resistente e poi colorato. Quindi stampare un colore per poi colorarci sopra mi sembra un po' inutile. Di conseguenza un bel bianco con le linee ben nette e precise aiutano sicuramente il lavoro. Quindi manterrei questa fase qui sempre con un colore bello bianco. Comunque sia dipende sempre chi ha creato il file, che tasti, che opzioni ha impostato. Quindi controllatele sempre. Poi questa qui dipende sempre da chi l'ha creato e sono sempre parti di colori. Poi abbiamo questo qui con i numerini, è un iconcino con un 1, 2, 3 e un pezzettino di carta sotto. Questo è fondamentale per appunto la riuscita del progetto, soprattutto per i pezzi così grandi che richiedono molti pezzi. Invece purtroppo nelle miniature, quelle che già arrivano intorno ai 10 centimetri, se volete ricrearle, vi è difficile perché sono numeri molto grandi. Questi numeri appunto sono quelli che troveremo qua. Praticamente abbiamo la fortuna di avere questo programma che stampando il numero di un pezzo, di un lato, riusciremo sempre a trovare il suo fratello, cioè dove va attaccato. Ecco qua, ad esempio, lui parte qui, era un 702. Se andiamo a vedere questo pezzo qua, con la rotellina si può appunto aumentare e diminuire, sarà il 702. Così appunto da non sbagliarsi. Un'altra cosa bella, soprattutto nella visualizzazione, possiamo vedere che io cliccando un oggetto posso vedere che parte sto guardando. Ecco qui. È molto utile anche il fatto del bianco, perché a volte devo capire all'incirca dov'è questo pezzo e a volte uno clicca e uno dice, ah sì, è un lato sbagliato, ecco che ha sbagliato il cartamodello, oppure si trova dei pezzi che non coincidono e dopo li arrivano i dolori. Soprattutto quando devi staccare la carta con la colla che si strappa mezzamondo. Poi c'è questa opzione qui che serve soltanto nella lavorazione, cioè una volta che abbiamo tagliato tutto e sto cercando di incollare, mi aiuta un pochettino a capire l'oggetto veramente come dovrebbe venire. Ad esempio io da questa angolazione riesco a vedere che quella riga del dettaglio è all'interno, quindi scavata all'interno del prodotto. questo ci aiuta tantissimo. Soprattutto anche questa opzione qui della lampadina, la lampadina ci fa capire un pochettino le profondità e a volte sono essenziali, proprio perché vedo che questo oggetto ce l'ho frontale e questo inizia a essere quello sotto. Adesso questo oggetto è molto semplice, però ce ne sono alcuni veramente che senza ombre non si riesce a capire se sono scavati all'interno o all'esterno e si rischia poi di sbagliare e andare a strappare un pezzettino di carta per poter rimodellare tutto. Tutto il resto è abbastanza inutile per quanto mi riguarda, non l'ho mai utilizzato per tutti i lavori che ho fatto. Andiamo quindi alla stampa del prodotto. La stampa del prodotto prima sicuramente si va a settare nei setting la qualità e come stampare. Texture setting non serve a niente perché nella visualizzazione non viene mai utilizzato. Quindi andiamo direttamente in print setting, cioè settaggi della stampante. Qui chiede quanto fare grandi, precise, visibili le linee che avremmo. Io di solito metto un 8, non ho mai avuto problemi. Molti mettono come selezione qua della foto il bitmap, ma secondo me serve più che altro quando uno va a stampare una foto, per dire di uno sfondo, di un volto all'interno della carta, lì mi serve un bitmap come qualità. Però secondo me per fare questi tagli netti precisi si va sempre su un vector print, quindi un lavoro vettoriale che ha proprio regole ben precise della riga, quindi non ci possiamo sbagliare e soprattutto anche cose molto piccole e vengono molto dettagliate. Il transfer non si può toccare nel vector print, questo lo potete lasciare che tanto vi fa capire giusto la pagina se vi perdete ma è una cavolata. E soprattutto la qualità della stampa, sempre il bitmap, io lascio sempre variate così non ho problemi e non devo andare poi a ripensarci. Facendo ok andiamo avanti. Con l'other setting anche questo è sempre di visualizzazione, quindi è inutile, perché molte persone vanno a spacciugare in queste due other setting e texture print setting che a volte non servono veramente a niente, quindi preferisco dirvi così. Andiamo direttamente alla stampa, da file e print setting andiamo nel settaggio della stampante, dove qui possiamo settare appunto, se volerlo verticale, orizzontale, non importa, comunque si seleziona la stampa, la pagina magari che si vuole stampare, se avete bisogno di stampare una sola pagina perché vi siete sbagliati un pezzo, oppure tutte. Facendo ok parte la stampa. Tutto qui. Il diever non serve a nient'altro per quanto riguarda i lavori, quindi visualizzazione dell'oggetto, identificazione dei pezzi per andare poi a incollarli e infine stampa dei fogli. Tutto ovviamente conviene, se ci sono già dei file prefatti, conviene andare su internet, ripeto sempre sul sito della Peppacura, troveremo appunto il gallery, per farvi un esempio, nel gallery ci trovate tantissimi prodotti già pronti, ecco qua, fatte da altre persone, e a volte sono disponibili per il download, come in questo caso questo ragazzo dovrebbe aver lasciato in possibilità di scaricare questo pezzo, ma ci sono alcuni che non lasciano disponibilità, ve ne accorgete anche perché alcuni proprio non hanno il file da scaricare, e dice, se lo volete andate nel mio blog o nel mio sito, alcuni fanno pagare, altri non fanno pagare, semplicemente vogliono avere qualcuno che va a vedere il loro sito, e hanno anche ragione, uno si mette a fare dei lavori particolari per ricreare tutto, è anche bello avere qualcosa indietro. Qui si può fare anche una ricerca, è molto pieno di oggetti vari, dico verità, e bisogna anche cercare un pochettino con le lingue, perché a volte è scritto non sempre in italiano o in inglese, bisogna sempre cercare anche un po' tutte le lingue, se non si trova un oggetto, ci si carica un po' di pazienza e si trova l'oggetto. Per quanto riguarda invece le ricerche su internet, il gallery viene dato disponibile, però ci sono molti siti che hanno tanti file che non sono riportati nel sito originale. per ora è tutto, e più avanti vi spiegherò un pochettino il designer se lo volete comprare, costa mi sembra una trentina di euro, e vi spiegherò poi più avanti anche lo sviluppo poi del cartamodello. Ciao a tutti!